Rifrattori accesi su Santa Caterina Valfurva dopo aver ospitato la Coppa del Mondo e la Coppa Europa di Scialpino, la stazione sciistica dell'Alta Valtellina, questa settimana è teatro di altri appuntamenti di spicco, con le gare del Grand Prix Italia, due discese libere, due supergipi agli atleti emergenti che aspirano ad entrare nel circus di Coppa Europa e Coppa del Mondo, quasi 400 gli attriti iscritti, lunedì la vittoria della gara fissa è andata alla bormina Federica Sosio, dominatrice della giornata davanti a Carlotta Dacanal, impeccabile organizzazione che ha visto impegnato lo staff di Cancro Primo Aiuto, la Onlus con il suo braccio operativo oltre CPA sarà tra gli organizzatori dei campionati italiani assoluti di scialpinismo, l'evento in programma domenica 17 gennaio sulle nevi di Santa Caterina Valfurva, partenza alle 10 per la gara femminile e mezz'ora dopo per quella maschile.